Che bello amici di Radio Bruno avere qui con noi San Giovanni Ciao a tutti, ciao Ciao, come ti stai preparando? Com'è l'emozione per questo Sanremo? Sono sereno, ma sono anche molto emozionato perché la mia canzone è molto importante, molto speciale per me Infatti io sono qua prevalentemente per cantare questa canzone, poi tutto il resto viene dopo Però a proposito di questa canzone, hai messo insomma in parole, in musica, un momento importante della tua vita È quasi stato un momento catartico, liberatorio, mettersi a nudo Sì, è stato liberatorio, questa canzone mi è servita per andare avanti È veramente una canzone che ho scritto per esigenza, che volevo scrivere da tanto tempo Ma non avevo mai trovato le parole giuste e neanche la musica giusta per farlo Ci sono riuscito e da lì comunque la canzone ha sempre preso più piede nelle nostre idee di portarla qua E infatti siamo qua E io so che comunque è dedicata a una persona speciale che capirà durante la tua esibizione che è proprio dedicata a lei O comunque una fase Ma io questa canzone la voglio dedicare in realtà a tutti quelli che vivono una situazione del genere E a tutte le persone che fanno fatica ad andare avanti E che non hanno il coraggio per farlo E vorrei dire che non siete gli unici e che anche se è doloroso ci si può riuscire Magari tu trovi la forza nelle canzoni, la forza nell'esibizione live, nell'essere a contatto con il pubblico Qual è questo ingrediente che può aiutare le persone a stare meglio dopo un momento simile? Sicuramente poter trovare una valvola di sfogo, un obiettivo che ti permetta di andare avanti Di pensare a qualcos'altro, di seguire quella cosa lì e non rimanere fossilizzato su quello che sta accadendo magari Come obiettivo ci spostiamo al venerdì, la serata delle cover Allora dobbiamo ricordare che comunque San Giovanni ha avuto un successo incredibile Nei paesi latinoamericani, lingua spagnola E lì ha avuto una collaborazione con una cantante importante La tua canzone farfalle è diventata Maripossa E quindi hai deciso insomma di ricambiare Esatto, esatto, è questo Cioè io sono grato ad Aitana Che sarà con me sul palco nella serata dei duetti Che non è più la serata delle cover, è la serata dei duetti Quindi appunto c'è questa possibilità di cantare una canzone propria Io lo faccio puramente perché volevo essere riconoscente e grato a una persona che mi ha dato tantissimo Che mi ha permesso di portare la mia musica in un altro paese e di farlo anche con una certa risonanza Spero che la stessa risonanza ce la possa avere la sua presenza sul palco Perché è un artista veramente incredibile E si merita di essere conosciuta anche qui per chi non la conosce Spero che questa canzone possa avere una seconda vita E spero che possa arrivare a tutti quelli che non l'hanno ancora ascoltata Anche in altri paesi perché poi Sanremo è visto anche da tantissime persone che non abitano qui magari E ha un'attenzione importante Quindi spero che arrivi questa cosa qua, spero che arrivi lei Voglio anche ringraziare il Festival e Amadeus Perché lui ha creduto in questa canzone che mi ha portato così lontano E è un modo anche per essere riconoscente a lui e riportarla su quel palco Ma ci puoi svelare qualcosa in merito ad Amadeus come direttore artistico? Cioè vi contatta, siete voi che presentate il progetto Lui magari dà dei suggerimenti oppure lascia la canzone come è? No, beh, è un direttore artistico Quindi mettiamo caso che Sanremo sia la sua mega casa discografica Giustamente lui ha un quadro generale delle canzoni Quindi io quantomeno mi affido anche alla sua parola Perché sicuramente sa meglio di noi quello che può arrivare Poi è ovvio che se c'è un'esigenza particolare da parte dell'artista È un altro discorso Però mi sembra una persona comunque con cui si può parlare Molto aperta e che ti dà dei consigli utili E poi tra l'altro invece vi ha voluto anche come presentatori In una delle serate proprio di un cantante in gara Sei pronto anche per questo ruolo? Perché guarda che comunque sempre più cantanti, artisti Poi entrano nel favoloso mondo della tv come presentatori Sì, penso che sarà un compito rapido Quindi poi da lì a presentare qualcosa di importante ce ne vuole Però sono contento perché secondo me si crea una bella comunità tra di noi Anche magari un modo per conoscere persone nuove Per creare dei rapporti nuovi Comunque è bello che magari siamo tutti qua È una competizione però ci possiamo voler bene Fare il tifo l'uno per l'altro E dopo Sanremo che succede? Esce il mio disco che si chiama Privacy L'uno Marzo è un disco molto personale Molto diverso da quello a cui ho abituato le persone È un disco molto urban Direi nel mezzo tra pop e rap Molto urban Riprende tanto dei suoni che vengono da altre culture Non vedo l'ora che esca Anche noi naturalmente di Radio Bruno Poi ti aspettiamo naturalmente per la presentazione dell'album e tutto quanto Intanto grazie mille a San Giovanni Grazie, ciao a tutti